Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Abris Build to Destroy Un gioco che uscirà il 14 di aprile, io credo lo vedrete proprio dopo l'uscita per una questione di embargo E non so dirvi il prezzo ancora La versione che stiamo provando è una versione che non dovrebbe essere la demo, è una versione 0.1 quindi è un early access E lo andiamo a provare insieme perché lo scopriamo insieme perché ha i soliti livelli quindi lo ritengo un gioco più rilassante di altri Perché alla fine qua si affrontano i livelli, i vari rompicapo dove dovremmo costruire delle cose per distribuirne altre Cambiamo proprio totalmente genere rispetto agli ultimi giochi indie che abbiamo portato Tieni il tasto destro del mouse per ruotare, ok, dobbiamo tecnicamente distruggere questo Tieni premuto il tasto sinistro per ruotare, ok Scroll to zoom, ok, vedete che ruotiamo, dobbiamo distruggere Abbiamo sbloccato la nuova parte, un blocco ultra pesante Infatti il gioco ci sta spiegando che dovremmo costruire Col menu messo qui a sinistra Dovremmo cliccare e costruire più o meno una cosa di questo tipo In modo che vada a perdere l'equilibrio e vada a distruggere il nostro ostacolo Quindi, sì, ci sta sfacassando i marroni dicendoci cosa fare Ma io più o meno ho già una mezza idea Ok, no, costruisce meno lì No? Non mi piace? Ok, lo tengo premuto e me lo posiziono lì Infatti vedete che poi c'è tutta la struttura Ok, posso anche con il tasto del mouse posizionare E poi con la rotellina Ruotare Vedete che mi dice di posizionarlo così E poi posso dire via Ha avuto uno scattino perché credo che sia abbastanza complesso Dal punto di vista dell'elaborazione della fisica Ok, andiamo al next stage Usa i connector Per collegare le parti Ok Perfetto Quindi abbiamo un connettore e delle parti E dobbiamo demolire questi due cubi qua Ok Quindi vediamo un po' Vediamo come sono fatte queste parti Ok Una Due Tre Vediamo Sì, stiamo andando su Le abbiamo finite Al momento Vediamo se il connettore come funziona Così Ah, li possiamo fare Ok Posizionata malissimo La torre Perché non cadrà mai Infatti vedete che Ho capito adesso Perché vengono rilasciati tutti Niente Rifacciamo Rifacciamo e mi sono già fatto l'idea di quello che dovremmo fare Restart Come si fa? Z Undo Ok, ricostruiamo Allora Vediamo un po' Dovremmo fare una cosa che ci fa cadere Vediamo un po' Mi inizia già a intripparmi la cosa Perché Allora Iniziamo a farla di qua In modo che inizi poi a cadere Davanti Quando arriveremo su Quindi La posizioniamo così Così è inevitabile che Questa costruzione Cadrà in avanti E poi Gli piazziamo Questa cadrà probabilmente Dritto così Quindi dovremo mettere Secondo me Un Allora Un doppio Di questi Quindi ne mettiamo uno qua Allora Ipoteticamente Questo Potremmo già attivarlo Però cadrà probabilmente qui Quindi Mettiamo qua questo E gli mettiamo un blocco Da questa In questo connettore Vedete che qua non servono impalcature Ne mettiamo un altro di qua E nel dubbio Io ne piazzerei uno Anche sotto qui Se è possibile Vediamo se è possibile Sotto qua No non possiamo Beh gli mettiamo un connettore Qua sotto In modo che magari Abbiamo la La fortuna di Di farlo Cadere sopra questa parte qui Vediamo se funziona È una Merda È una Merda Perché cade Esattamente Prima Cioè si Spezza La parte No Cioè si è Spezzata Questa parte qui Vediamo un po' E si cade in avanti Ma questa parte qui Cade di là Niente Riproviamo Cioè adesso Mundo Z Clear Ok Si spezza Quella parte lì Ok Allora Vediamo Ma Cioè ce l'abbiamo fatta Vabbè Va bene Data Io stavo già pianificando Ok Distruggi Bersagli Ok Perché ci sblocca nuove cose Allora Praticamente Dobbiamo Questa è tosta Perché il palazzo Deve Crollare Questo si distruggerà In automatico E farà Crollare Anche quello Quindi Dobbiamo distruggere Quella parte lì Quindi Non trovo Molto comodo Il Questa cosa Di Diciamo Dover vedere Per forza Tutta la scena E Prima di Testare Cioè non è così Così comodo Allora Questo tecnicamente Cade avanti E dovrebbe spingere Però Vediamo se posso Piazzare uno di questi Così Vediamo così Come funziona Gli dà la martellatona Però la fa cadere Su se stessa No Molto bello Devo dire Molto 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 Bello Allora Undo Torna indietro Riavvolgi Ok Questo non è Giusto Quindi Vediamo un po' No 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 Devi eliminare il blocco Ok Se lo facessi così Anzi Così Con questo Col martello Facessimo una sorta di Martello di questo tipo Vediamo Quella sotto Non ne risente Però magari Eh no Mannaggia Fa blocco Troppo 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 Non riesco a tornare indietro Devo fare Clear Ogni volta E tornare Indietro Ok Vedete che in questo caso Questo blocco qui Non va bene Perché non cade Quindi Lo mettiamo Vediamo se riusciamo Proprio a metterlo così Così cade per forza Poi C'è il rischio Se mettiamo Quel connettore Di fare un baricentro Troppo alto Però A me servirebbe Il fatto che Questo Fosse connesso In un blocco Unico Che cade in avanti Quindi Tecnicamente Se io Piazzassi Questo Dritto lì Dovrebbe cadere Come blocco Unico E spingere Avanti Quindi questo Va giù E magari Qui Gli mettiamo Un connettore Magari qua davanti Con questo In su Vediamo No Decisamente No Però Però Potremmo eliminare Questa cosa qui E vedere Come va così Perché così Colpiremmo Questa parte Sotto Servirebbe Forse Un po' Meno Forse Un po' Meno Ok No Sto iniziando A prenderci La mano Allora Se io Questo Allora Abbiamo visto Che questo qua Colpisce Il Cosa Troppo In là Quindi E cade su se stesso Alla fine Quindi Non va bene Poi se per caso Un frammento Finisce di là Li distrugge E vinciamo Ma L'idea sarebbe Quella di buttare Tutto il palazzo Di là Come diceva Il tutorial Quindi questo Secondo me Cade un po' Troppo Quindi Potremmo Provare A mettere Questo Coso Qui Un po' Più Indietro Vediamo Se riusciamo A metterlo Così Con questo Più avanti Vediamo Così No Non me lo piazza Non gli piace Allora Vediamo Ok Così Vediamo Così Così Non penso Che cada Si Cade Ma piano No A questo punto Allora Vista la botta Che gli abbiamo dato Credo che questo Non sia studiato Per cadere Per rompersi Mamma mia Andrebbe Un titolo quasi da live Questo Allora Vediamo di fare Un'altra cosa Allora Dobbiamo dare Una spinta A tutta la torre Per farla cadere Giù Quindi A questo punto Noi facciamo Un altro Di questi Andiamo su E poi andiamo a spingere Che riuscissi a capire Come Minchia Si va Così Proviamo così Vediamo Anche se ho dei dubbi Ma Ok Spingila La torre Bravo Spingila di là È un po' troppo Però Però Sì Eccezionale Eccezionale Il risultato Qua in questo caso Devo dire Poi io non voglio Spoilerarvi tutto Però abbiamo fatto Un esplocato qualcosa Un move Che apparentemente Non era questo L'obiettivo Use Use rotator Per Girare Le parti Ah il rotator Così Ah Ok No no Ah questo qua Ok Ok Cioè ci cambia Tutto questo Perché ci dà La possibilità Poi di Ruotare La nostra costruzione Quindi Questo è Un ultra heavy Questo è Il Praticamente Ah ok Ok Dobbiamo Costruire Un Demolitore Senza andare Per forza in altezza Quindi Ruotiamo Rotate E però io voglio Ruotare il pezzo Ok Mettilo così Ok E poi Mettiamo un altro Di qua Magari Con un cubo Pesante Dall'altra parte Quindi Tac E poi Mettiamo Un altro Di questi Immagino Che Così Credo Possa Essere Vediamo Mettiamo anche Questo Giusto Per Sicurezza Vediamo Via Ruotiamo Ah ok Questo Io credo Io credo Che questo Non me lo Ancori Questo qua Lo perderemo Nel primo Però va bene Proviamo Dai Rotate Sì infatti Il Adesso Raggiunge Quasi tutti I blocchi Tranne quelli di là Speriamo che Eh no Mannaggia Non raggiunge Non raggiunge Il palazzo di là E' ostico Questo E' molto ostico Vediamo Perché c'è qualcosa Che non lo fa Raggiungere Questa parte qua Potrei Invece Fare Un'altra Cosa Dato Che Eh Non lo posso Piazzare Dritto Per Dritto Così Così Vediamo Se così Va Ma non Penso Sì Sì In questo caso Abbiamo Dato L'input A tutto Poi non so se Sia importante Se cade dentro O fuori E' rimasto in piedi Però eh Cioè che sfiga Questo Adesso voglio Aspettate No Aspettiamo un po' Riproviamo Ah no Ce l'abbiamo fatta Si è distrutto adesso Perfetto Prossimo stage Usa le bombe Per creare Esplosioni Aha Che spettacolo Cioè praticamente Ne abbiamo Pochissimi Ah questa è una bomba Ok Abbiamo Sei Heavy beam Eh ma come Cavolo Lo facciamo Mettere Ah dobbiamo Costruire Dobbiamo costruire Eh Delle bombe Bene Allora Possiamo Metterlo Di là Uno Questo in pratica Li Li tiene connessi Quindi Facciamo Così Ne mettiamo Uno Ruota Ruota TDD Bah direi che ce la facciamo Questo mi sembra Molto Semplice Come Come struttura Allora Mettiamo anche qui Mettilo lì E vediamo Ah non ce lo lascia fare Mannaggia Eh Se lo piazzassimo Tipo così Ce lo lascia fare E poi mettiamo Una bomba qui E una bomba Qui E dovremmo Tecnicamente Essere pronti Via Diamo La detonazione Diamo l'inizio La detonazione Io non so Se questo Cosa qui Cambi Il fatto Se è presente Da una parte O dall'altra Però Io lo terrei Ah sono esplosi Per i fattacci Loro Ok niente Perché le bombe rotolano giù Quindi dobbiamo darci una mossa Ok Li facciamo detonare noi Prima che rotolino via E si perché si muovono Via Bene Molto bene Quanto abbiamo fatto? Abbiamo distrutto Il 86% Ok Back to menu Vediamo un po' La campagna Abbiamo sbloccato Un po' di cose Cioè se guardate Il mondo 1 E questo E abbiamo fatto fino a livello 5 Sono 7 livelli Dopodiché abbiamo Il rocket Cioè il mondo 1 E l'estinzione Il mondo 2 E l'annientazione L'annientamento Insomma Il mondo 3 La corrosione Avrà a che fare con altre ambientazioni ancora Il mondo 4 L'erosione Che spettacolo Il mondo 5 La combustione E da fare Ne avete Insomma Poi c'è la sandbox Giusto per dare un'occhiata alle modalità Dove potete costruirvi gli scenari Quindi fare il wall E fare tutto È tremendamente figo Ah si può disattivare anche la telecamera Cioè ci si può muovere liberamente Cosa che non abbiamo visto prima Si va a vedere anche tutta la struttura interna del muro Spettacolo Molto bene Molto 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 bene Allora Questo era Abris Build to Destroy Spero di avervi fatto cosa gradita Di avervi portato un titolo così Che comunque merita Per la sua originalità Non che cambi il mondo Di questo tipo di puzzle game Però Giusto per fare qualcosa di diverso Questo gioco mi intrigava molto È un bel passatempo Ecco Avete quei 5 minuti 10 minuti O vi annoiate un pomeriggio Non sapete cosa fare Andate avanti con i livelli E vi divertirete Non so direvi purtroppo però Ancora il prezzo Perché deve ancora uscire Comunque Alla prossima ragazzi Vi saluto E ciao ciao